Port esci Scendi Bancur Usa Bancur Vai Strada Premi Puls Attraversa Strada Up Vai Incrocio Inter Inserisci il CD3 di Blindness nel lettore CD-ROM Premi Enter per continuare Esamina Che pace L'atmosfera è calda e accogliente Davanti a me ci deve essere il bancone Sgabello Esamina Lo sgabello dovrebbe essere vicino al bancone Sali Salve, prende qualcosa? Dopo il brutale assassino del professor Norman Evans Altri due casi inquietanti L'omicidio di un amico della vittima Trovato oggi ucciso nel suo locale a sud della città E la misteriosa sparizione di una donna Anch'essa amica delle due vittime La polizia indaga nella cerca delle amicizie Cercando gli indizi che possano incastrare il colpevole Barista Esamina Quest'uomo conosce tanta gente Forse può aiutarmi Parla Portami una birra, per favore Birra Usa Barista Cartolina Usa Scusa Mi dici cosa si vede su questa cartolina? C'è una spiaggia Ah, sembrerebbe quella vicina alla nostra baia Barista Parla Portami una birra, per favore Usa Usa Barista Agenda Usa Scusa Sapresti dirmi cosa c'è scritto? È un'agenda molto ordinata È un'agenda molto ordinata L'ultimo appuntamento risale ad oggi alle tre, con una certa Helen Barista Barista B Usa Usa Scusa Sapresti dirmi come arrivare qui? Ma lei è fortunato La persona che cerca abita proprio qui dietro È semplice Deve soltanto svoltare a sinistra E si troverà di fronte al palazzo che cerca Scusa Uscita Vai Eh scusi, non sta dimenticando qualcosa Usa Tieni Grazie Barista Usci Vai Grazie Grazie Salve, indica. Salve. Allora, ha trovato la persona che cercava? No. Purtroppo no. Mi dispiace, non so proprio come fare a ritracciare la sua amica. Se posso esserle ancora utile. Parla. Portami una birra, per favore. Barista. Un minuto. Mi è venuta un'idea. Forse nell'elenco telefonico può esserci un nuovo indirizzo. Mi lasci provare. Truffè, Truffè, Albert, Dania, LNR. Indirizzo di Albert. Indirizzo di Dania. Usa. Scusa, puoi trascrivermi questo indirizzo sul biglietto? Il giù. Il giù. Il giù. Tieni, grazie. Vai! Casa di Ellen, incrocio, vai! Fabio, sale! Non c'è problema. Siamo arrivati. La casa è di fronte a lei. Esci. Casa. Casa.